fratelli e sorelle tutti ben ritrovati ci prepariamo alla ventunesima domenica del tempo ordinario riprendendo quindi la lettura del sesto capitolo di giovanni che domenica scorsa abbiamo sospeso per la solennità della beata vergine maria assunta in cielo vorrei fare una premessa il testo che si sarebbe dovuto ascoltare domenica sarebbe stato quello di giovanni sempre il capitolo sesto dei versetti 51 e 58 se nella diciannovesima domenica cioè due domeniche fa la centralità era data il pane di vita della parola tutti saranno istruiti da dio ricordava giovanni nel vangelo nel brano che non abbiamo ascoltato la centralità era data il pane di vita inteso come eucaristia se non mangiate la carne del figlio dell'uomo non avete in voi la vita io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno in questa ventunesima domenica noi completiamo la lettura del sesto capitolo di giovanni con la descrizione della reazione dei discepoli la pagina evangelica infatti viene introdotto anche dalla prima lettura Giosuè dopo il cammino di 40 anni nel deserto chiede al popolo cosa vuole fare servire il signore nel quale hanno fatto esperienza nel deserto ed è stato un dio provvidente o gli dei presenti nella terra di Canaan la risposta è affidata la libertà del popolo così sarà la scelta di accettare l'insegnamento di Gesù e di seguirlo entriamo allora molti dei discepoli di Gesù dopo aver ascoltato dissero questa parola è dura chi può ascoltarla come evidenziato nel testo non è la folla manifestare perplessità quanto i suoi stessi discepoli i quali non solo esprimono incredulità e rifiuto ma arrivano a ritenere questo messaggio offensivo non tanto perché non hanno compreso ma hanno talmente ben compreso che rifiutano a priori ogni possibile dio che si riduca che si faccia piccolo in questo modo lo scandalo sta qui nell'incarnazione lo ricorderà san paolo noi predichiamo cristo scandalo dei giudei gesù sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo disse loro questo vi scandalizza e se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima è lo spirito che dà la vita la carne non giova a nulla le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita ma tra voi vi sono alcuni che non credono gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito questo vi scandalizza il verbo scandalizzare appare qui e poi nel sedicesimo capitolo quando gesù annunzierà la persecuzione e la morte quindi il riferimento è alla sua morte e la morte che scandalizza la morte di gesù perché pensava pensano che la morte fosse la fine di tutto infatti gesù dice se vedesse il figlio dell'uomo salire dove era prima la morte era considerata una discesa la risurrezione una salita ed ecco la frase di gesù è lo spirito che dà la vita la carne non giova a nulla il contrasto carne e spirito richiama isaia dove il profeta scrive ogni carne e erba secca l'erba il fiore appassisce ma la parola del nostro dio dura per sempre continua gesù per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal padre e da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui i discepoli tornarono indietro un'espressione capace di dire tutto lo scoraggiamento la delusione il fallimento da loro vissuti questa stessa espressione la troveremo più avanti nel vangelo di giovanni al capitolo 20 quando pietro giovanni dopo aver visto il sepolcro vuoto tornarono indietro perché non avevano ancora compreso le scritture e la stessa esperienza dei discepoli di emmaus o del giovane ricco udita questa parola se ne tornò rattristato perché aveva molti beni tutte persone chiamate a fare un passaggio ad accogliere una rivelazione a prendere una decisione e se all'inizio i discepoli andarono dietro a gesù dopo la moltiplicazione tornano indietro cioè tornano a fare quello che facevano prima finché si trattava di inseguire segni e miracoli stavano dietro al maestro ma quando gesù chiede loro di fidarsi di fare un salto qualitativo di accettarlo umile e debole lasciano mollano e non se la sentono più di continuare da notare che se prima seguivano per il pane che è per la vita il loro tornare indietro conduce alla morte perché perdono l'intimità con dio scegliendo di non godere più della bellezza e della sua amicizia e vicinanza a questo punto gesù si rivolge ai dodici volete andarvene anche voi gli rispose simon pietro signore da chi andremo tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di dio se alcuni discepoli hanno scelto di tornare indietro e di non stare più con lui i dodici scelgono di restare sappiamo dei vangeli che anche per la loro perché per loro la parola è dura è un ostacolo da comprendere da superare ma scelgono di farlo con gesù riconoscono che lui è una parola di vita e di eternità che potrà aiutarli i dodici hanno maturato abbiamo creduto e conosciuto dopo tanti fallimenti e fragilità i dodici hanno imparato a fidarsi del signore e ad affidarsi a lui basterebbe ripensare all'episodio della barca in mezzo alla tempesta i dodici sono giunti all'altra riva perché capaci di gridare a gesù di svegliarlo affinché lui svegliasse la loro incredulità e il testo conclude nelle parole di pietro tu sei il santo di dio è un modo chiaro attraverso quale pietro fa capire di riconoscere in gesù colui che partecipe della santità di dio che viene invocato come santo e nel libro dell'apocalisse si usa questo titolo proprio per indicare gesù il risorto siamo così giunti al termine di questo sesto capitolo ma che cosa dice a noi oggi questa parola è la seconda classica domanda che ci facciamo nell'esercizio della lezio divina si conclude oggi lo sviluppo del tema del panni di vita un tema che mi è ci ha obbligati a fermarci a porci alcune domande è interessante notare che questa lettura avviene nel cuore dell'estate un tempo nel quale tutto si alleggerisce la liturgia invece ci ha e ci sta spronando ad andare alla radice della nostra scelta di seguire gesù del nostro dirci ed essere cristiani forse vuole farci capire che anche al mare in spiaggia in montagna siamo chiamate a testimoniare l'amico gesù perché l'esperienza di fede non possiamo chiuderla nell'armadio in parrocchia ma fa parte di noi della nostra identità e allora siamo stati invitati in questo tempo a domandarci se ci accontentiamo di un'esperienza superficiale di gesù limitandoci a gustare alcuni frutti dei suoi miracoli i suoi segni o se siamo disposti ad andare oltre a una vita di di apparenza e di superficialità passando dal dono al donatore guardando a chi offre tutto questo per noi come a dirci mi e ci accontentiamo del dono sapendo che prima o poi si esaurisce o guardiamo al donatore grazie al quale tutto diventa dono in secondo luogo siamo stati invitati a domandarci quanto il pane di vita inteso come parola di verità istruisce il mio e il nostro cuore quanto accetto di lasciarmi nutrire dal pane della sapienza che è gesù stesso una scelta che chiede una decisione chiara domenica scorsa ci siamo lasciati nutrire dal pane di vita che l'eucaristia il solo pane del cammino verso il cielo che un dato che merita di essere segnalato e non possiamo farlo sotto silenzio il fatto che domenica scorsa sia coincisa con la solità della beata vergine maria assunta in cielo chiede di essere letto come un dono un segno della provvidenza in quanto la liturgia ci ha indicato in maria la discepola per eccellenza da guardare e imitare lei è giunta in cielo e alla meta e lassù come segno di consolazione di speranza a chi dunque guardare a chi chiedere aiuto se non a colei che già gode della gioia dell'eternità maria è lì per dirci che la parola di gesù potrà anche apparire una parola dura ma se accolta con fede se accolta dentro un dinamismo spirituale e non un puro calcolo di opportunità da vita è l'unico mezzo che da vita se ragioniamo come i discepoli di fronte alle cinquemila persone non ne usciremo se impareremo ad agire come quel ragazzo generoso che offre i suoi cinque panni e due pesci allora ci scopriremo collaboratori di dio ecco il calcolo ed ecco il dono dio ci educa alla logica del dono ma non solo è importante lasciarci guidare dallo spirito perché è lo spirito che dà la vita la carne non giova nulla carne intesa come logica umana calcolatrice questa logica chiede scelta di fondo come gesù è ha chiesto al popolo da quale parte voleva stare noi da quale parte vogliamo stare da chi vogliamo lasciarci guidare da quale logica qui tutto dipende dalla nostra libertà e della nostra responsabilità una risposta che chiede prima di tutto di domandarsi quanto sono e siamo disposti a lasciarci amare perché come pietro la lavanda dei piedi forse anche noi rifiutiamo un dio che si fa bambino si fa samaritano si fa misericordia preventiva pensate a zaccheo si fa malfattore in croce pur di salvarci anche noi come i nazaretani del tempo siamo pronti a dire ma lui è il figlio del falegname il figlio di giuseppe di maria forse interiormente sentiamo di preferire un dio forte e potente un dio rivestito di ogni preziosità che in fondo non è che un proiettare in lui ciò che noi vorremmo da dio anche certe difese di pratiche liturgiche che vanno contro anche al santo padre forse non esprimono tutto questo il proiettare nella liturgia la nostra idea di liturgia ma non quella della chiesa il proiettare il rivestire la preziosità di dio con la nostra logica ma non quella logica che è propria di dio gesù non obbliga chiede una scelta sa che sta puntando su discepoli fragili ma non è né ha paura né sente imbarazzo lui accoglie discepoli deboli perché lui che li renderà forti e lui che li renderà capaci di compiere la missione in fondo gesù in colui che chiama vede sempre cinque panni due pesci poca cosa ma nelle sue mani diventano strumenti preziosi ciò che ci viene chiesto allora è l'apertura la disponibilità a lasciarsi amare a lasciarsi perdonare e guidare da dio qui nasce la risposta di pietro signore tu solo ai parole di vita eterna qui sta il dunque accettare che gesù ha una proposta forse dura ma di eternità di speranza di gioia vera è la parola di gesù la parola totalizzante maria si è fidata ha seguito la parola del figlio e ora gode la gloria del figlio dalla su prega per noi lei che assunte in cielo e intercede per noi ma aspetta a noi accettare il suo aiuto e seguire la parola del figlio come dicevamo due domeniche fa solo se guidate dallo spirito solo se si lascia attrarre dal padre si potrà comprendere chi è gesù per me per noi un dono che va accolto non va mercanteggiato e allora ancora una volta capire gesù e la sua preposta non è un atto volontaristico ma è un atto di fede tra voi ci sono alcuni che non credono dice gesù stare dietro è questione di fedeltà fedeltà a una persona a un amico non ha delle regole e gesù ci ha scelti non per la nostra bravura e ci tiene con lui non per la nostra brevura perché il pane del cielo sia esso il pane dell'amicizia il pane della parola il pane dell'eucaristia non è un premio per i più bravi è il pane per i peccatori è il pane per tutti e finché si insiste che l'eucaristia è il pane per i migliori per i più bravi forse stiamo proiettando in gesù quello che noi vogliamo far fare a gesù il nostro cuore ha nostalgia di dio nessuno può ostacolarci a nutrirci di dio nessuno può toglierci la gioia di condividere un'esperienza con il signore ce l'ha detto il signore chi siamo noi per porre degli ostacoli della sua parola di eternità assette la mia e la nostra anima ma anche del pane di eternità abbiamo fame e allora a noi tutti fare di gesù il centro del nostro cuore la bussola dalla quale lasciarsi orientare la forza sulla quale fare affidamento gesù ha dato la vita per me si è fatto cibo di eternità per me peccatore si è donato prima di salvarmi non ha aspettato che io diventassi salvo perché lui che mi ha salvato non ha aspettato che io diventassi perfetto lui si è fatto perfetto per me nel dono Gesù ha dato la vita per me mi ama perché io impari ad amarlo e impari ad amare gli altri sono state domeniche impegnative ma ce l'ho permesso di fare il punto su gesù e su noi stessi comprendendo ancora una volta e forse un po meglio che gesù è pane di vita che ha parole di vita eterna e cibo di eternità aspetta a me crederci e io cosa rispondo con due preghiere la prima quella della colletta della liturgia dell'anno b la seconda il tentativo con il quale io cerco di rispondere anche per offrirvi un esempio di come si può pregare comincio dalla prima o dio nostra salvezza che in cristo tua parola eterna riveli la sapienza del tuo amore guidaci con la luce dello spirito perché nessuna parola umana ci allontani da te unica fonte di verità e di vita e io rispondo così signore gesù pane di vita eterna grazie perché ti fai dono per me dono di parola e dono di eucaristia aiutami signore ad ascoltare la tua parola più che le parole a nutrirmi del tuo pane più che di pani mondani fai che impari sempre più e sempre meglio a credere in te che sei amore più che ad arretta agli amori che si rivelano illusioni che io creda in te che io speri in te che io ami te pane di vita pane di eternità amore vero così sia